Gentili telespettatori, buona giornata. Che cosa vedete in questa foto? Sembrerebbe il sole che illumina l'oscurità dell'universo, mentre la luna splende in primo piano. Ma è un'illusione ottica perché quella pallina rossa, nebulosa, non è nient'altro che il lampione di una strada. Di una strada di una cittadina italiana e il fotografo ha fatto questa foto che sembra qualcosa di diverso, invece è un lampione con dietro la luna. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.